Il progetto Giovanni Sì è il progetto per l'autonomia dei giovani voluto fortemente dalla regione toscana e che è stato attivo durante tutta questa legislatura e che è composto in sei macro aree tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, studio e formazione. All'interno di una di queste aree, di queste macro aree, appunto fare impresa abbiamo una serie di opportunità che vengono offerte ai giovani che vogliono lavorare in ambito agricolo e oggi siamo qui a Sarteano proprio a raccontare alcune di queste opportunità. Nello specifico parleremo della Banca della Terra che è questa attività che la regione toscana ha messo in piedi ormai da un anno, da circa un anno, che poi verrà spiegato nel dettaglio dai colleghi nel quale appunto vengono messi a bando terreni che sono incolti sul territorio toscano e per chi ne può beneficiare una delle premialità è quella del fatto che siano giovani imprenditori. Racconteremo anche altre opportunità che vengono offerte ai giovani, il bando di primo insediamento, la possibilità di attivare i tirocini in ambito agricolo. Ecco, Giovani Sì fa un po' questo, mette insieme tutta una serie di opportunità, le più varie appunto, proprio per aiutare i giovani nel loro percorso di emancipazione e di autonomia. Quanto è complicato, secondo la tua esperienza, in questo momento per un giovane entrare nel mondo del lavoro in Toscana? Allora, sicuramente non è semplice. La regione toscana con il progetto Giovani Sì non aveva la pretesa, nemmeno le possibilità, di garantire ovviamente opportunità di lavoro. Quello che vogliamo fare e quello che crediamo sia stato utile, i numeri poi ce lo raccontano, abbiamo raggiunto circa più di 136 mila beneficiari col progetto Giovani Sì, è quello di aiutare i giovani ad affacciarsi al mondo del lavoro, diciamo affinando le proprie competenze, sviluppandone di nuovo quando è possibile, penso all'esperienza dei tirocini, penso all'esperienza del servizio civile. Ecco, queste noi crediamo siano tutte azioni che in qualche maniera possano aiutare a far capire al giovane quali sono le proprie aspirazioni e quale possa essere il suo posto nel mondo del lavoro.